Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sentirete tutti i cani del mio quartiere abbagliare, scusatemi tanto. Questo qua è un video sponsorizzazione ma non voglio che già dite ah ma tu non facevi più video sponsorizzazione, è un video sponsorizzazione fatto con coerenza, una collaborazione fatta con un ragazzo che ha una pagina su Instagram. La pagina ve la lascerò sotto in descrizione, se riuscirò ovviamente il link e anche nei commenti in alto così la vedrete, sarà più visibile che mai. Praticamente, allora vi spiego questa sponsorizzazione perché ho detto in video precedenti che non avrei più fatto sponsorizzazione, se farò una sponsorizzazione se sarà rincoglionita no, sarà non è rincoglionita. Allora vi spiego, volevo tagliare un filo ma che da me mi dà fastidio ma va bene lo stesso. Allora facciamo la sponsorizzazione seria. Allora, la sua sponsorizzazione è indirizzata a un ragazzo appunto che ha una pagina di incremento follower su Instagram. Ora, già tutti per partirete col presupposto di dire ah ma perché sono dei fake o sono finti o altre cose varie. Allora, io vi posso giurare che prima di far parte di questa pagina che ci sto forse da un po' di settimane, adesso non mi ricordo da quanto, allora io prima di stare in questa pagina che l'ho conosciuto per caso tra l'altro tramite il mio chat di Instagram, sono stata in tanti 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 gruppi di Instagram perché volevo aumentare i follower. Perché i follower comunque servono, perché comunque è brutto avere un canale YouTube magari con quasi 1500 iscritti, avere poi un profilo Instagram con 560 follower. Perché io avevo quei follower circa qualche settimana fa e volevo incrementare. Il problema è che ci sono sempre i furbi, le volpi, che si tolgono, si tolgono, poi si rimettono, c'è gente che fa casino, sono andata in un gruppo con 2000 persone. Era veramente orribile. Cioè non si chiamava niente, notifiche a non finire. Poi sono capitata in tanti gruppi, stesso su Instagram, delle chat dove dovevi sempre ricambiare subito se non ti toglievano. Gente che voleva i like, i commenti, le descrizioni subito dovevi rimandare lo screen. Cioè cose che uscivi fuori pazza. Cioè dovevi starci dietro 24-24 io vendo comunque come mia prima missione YouTube. Ho due canali YouTube, quindi ho dei gruppi anche per comunque gestire la mia community di YouTube. Ne ho diversi. Poi ho anche delle chat comunque sparse. Qui là sto parlando di tutti i gruppi che gestisco. Quindi mi veniva scomodissimo avere una chat di persone allampanate, allucinanti, che sia su WhatsApp, che sia su Instagram. Su Instagram è ancora peggio. Comunque quando ho passato di Cotto di Crude, il problema è stato che io ho chiesto aiuto a queste pagine, questi gruppi, perché la mia pagina originale che ho adesso di Red Princess non è quella originale. nel senso che non è la prima che ho creato. Ovvero io tempo fa avevo la pagina che si chiama Savino Sara. Come mi chiamo io, piacere. La pagina aveva un bug, ovvero non si aggiornava mai. Quando Instagram è passata a fare i sondaggi, a fare tutte quelle cose fighe che fa adesso, il mio profilo non le faceva. Quindi ho dovuto, purtroppo, toglierlo. Cioè esiste ancora, ma lo lascio lì perché ci sono le foto. E quindi ho perso tutti gli iscritti, tutti i follower li ho persi. Ne avevo un bel po', non dico tantissimi, però un 700-800 ne avevo. Li ho persi tutti e li ho trasferiti in una parte su appunto quello che ho adesso che è Red Princess. Perché poi ho voluto dividere il mio profilo in due. Quello principale è Red Princess e poi ho SarSMR. E ne ho un terzo che si chiama Recensitore di Sapori che è col mio ragazzo Andrea 93 dove appunto recensiamo i ristoranti. Ovviamente per questi tipi di profili, perché non sono profili solo privati, cioè non sono pubblici, proprio perché noi promuoviamo i nostri canali, ma anche noi stessi, abbiamo bisogno di follower. E molti penseranno, ah ma i follower li, però comunque sono falsi, sono finti, allora vi posso assicurare che come pagina, io sono partita da 500, 560 follower. Ad oggi sono a quasi 1500 follower. Vi posso assicurare che io ho like, ho commenti, perché comunque con tante ragazze o ragazzi ho dei confronti anche per messaggio. Tipo mi scrivono in privato, mi chiedono guarda possiamo anche collaborare con magari dei like, dei commenti, ad alcune persone non glieli chiedono nemmeno. Me li mandano loro, cioè nel senso che commentano, dicono tipo mi fa piacere seguirti, ho visto che è un canale YouTube, guardacelo anch'io. E così ho preso anche degli iscritti, perché comunque è un modo differente. Questo ragazzo che ha inventato questo metodo, che non sto a spiegare perché, gli hanno già straccopiato in maniera allucinante, e per questo me ne dispiace molto perché io lo seguo, ho iniziato a fare parte di questo, di questa pagina, diciamo settimane fa quando ancora aveva pochi seguiti, era ancora all'inizio più o meno. E quindi mi dispiace veramente tanto quando poi vedo tante pagine copiarsi a vicenda in maniera errata. Quindi io vi consiglio, se volete veramente incrementare i vostri follower in maniera comunque sicura, perché non sono fake, sono persone reali. Persone tra l'altro che vogliono incrementare anche loro, i loro iscritti. Quindi alcuni di loro vi scriveranno anche in privato, tipo se potete scambiarvi like, scambiarvi dei commenti, ovviamente non siete obbligati a rispondere, però io li faccio volentieri. Non è che vi arrivano vagonate di messaggi, è tutto nella norma. Il metodo è tranquillo, non è complicato, è sicuro e avrete sempre nuovi iscritti, nuovi follower, quindi è anche facile. Ovviamente dovrete seguire, non vi spiego in che modalità dovete seguire anche voi delle persone, ovviamente la pagina in primis, però vi spiegherà tutto il ragazzo che gestisce la pagina. Poi ovviamente vi lascio il link sotto, si chiama Aumento Followers 2 se non sbaglio, perché avevo anche un'altra pagina, io vi lascio la sua pagina con cui adesso è più attivo. Poi tanto comunque ha anche la pagina numero 1, proprio per ora usa la pagina numero 2. Io spesso lo tolto a te anche sul mio Instagram, lo sponsorizzo spesso anche nelle mie storie, perché comunque penso veramente che sia un modo ingegnoso, antifregatura, ci sono sempre le volpi ovviamente, ma il meccanismo con cui funziona, che poi capirete quando ci farete parte, è facile sgamare, diciamo, le volpi e quindi vengono tolte, veramente. È facile, secondo me è molto facile da seguire, non ci sono cose complicate, non dovete starci dietro tantissimo, come nei gruppi, dovete stare sempre lì a guardarli, e le cose sono veritiere perché ci sono proprio persone vere che scrivono in commento, di cui anche io, quando Aumento lo dico al ragazzo, lui mette gli screen di persone vere, reali, perché comunque all'interno di questi gruppi ci sono anche di miei amici, c'è il mio ragazzo, ci sono io con tre diversi account, perché ovviamente gli ho chiesto come favore personale, e gli ho detto che comunque io lo sponsorizzo sempre, nel senso che lo sponsorizzo nelle mie storie, lo sponsorizzo privatamente, gli ho portato amici, collaboratori di YouTube, gli ho portato tutta mezza famiglia, gli ho portato, perché veramente credo che il meccanismo che abbia inventato nella modalità di aumentare sia giusto, perché comunque si vede dai risultati, io ho tre account e tutti e tre salgono, cioè Red Princess ero a 560, sono a 1500 quasi, mentre Saras e Merre ero partita da meno di 300, adesso sono quasi a 700-800 follower, l'altro, i recensitori di Sapori eravamo veramente al minimo sindacale, adesso non mi ricordo, siamo sui 400-500 anche lì, comunque sono persone che veramente si iscrivono, veramente vi seguono, sono persone che comunque se volete potete anche comunque con alcuni, alcuni vi lasciano anche i like senza che glielo chiedete, e comunque questo ragazzo ha comunque anche, poi ve lo dirò stesso lui, ha anche, diciamo, delle modalità per avere commenti, per avere anche i like, per avere tanto altro, quindi basta che chiedete tutto a lui in dire che vi saprà spiegare tutto nel migliore dei modi, non è difficile, ripeto, ci sono riuscita io, e io mi trovo benissimo, non sto continuando a stare appunto nella pagina tranquillamente, la sponsorizzo appunto, ripeto, con tutti i miei account, ne ho tre, ripeto, ho fatto entrare anche il mio ragazzo, che infatti è contento perché anche lui sta raggiungendo buoni obiettivi, e ripeto, le persone sono tutte reali, anche perché ho messo Claudia Empatia, ho messo Stefi, la Stefi, c'è anche altre persone come magari Betta, Laura, tutte persone che sono anche youtuber, come anche persone che sono instagrammer, gente che ha tiktok, che magari tramite, perché comunque servono secondo me i follower, anche se vengono presi in questa maniera qua, comunque secondo me servono su instagram, servono molto, e io sto trovando un risconto positivo perché comunque lo vedo nelle pagine che mi considerano di più, lo vedo anche nei ristoranti, mi chiedono le recensioni, perché vedono che ho tanti follower, poi la modalità di come li acquistate, cioè non è che li ripagate, la mandata in cui li acquistate, ce li prendete, alla fine, allora non glielo prego un cazzo, perché comunque avete visibilità. Poi io con alcuni nuovi che ho conosciuto, appunto, ripeto, ci parlo, ci commento tutto. Se siete interessati a questa modalità, che su voi è la più sicura, vi lascio sotto il link, non andate a cercare pagine strane, perché alcune sono simili, ma sono stupide, vi chiedono di seguire 4 mila di persone che poi si tolgono, o ce n'è una addirittura che vi vuole solo fregare gli iscritti, o sentire di tutti i colori, perché poi cercano di imitare, ma imitano pure male. La gente non sa nemmeno più copiare, cioè veramente, è una cosa veramente triste. Tra l'altro questo ragazzo, le pagine per far aumentare le persone chiedono a lui di aumentare, cioè è proprio una cosa senza senso. Le pagine di aumento chiedono a lui di aumentare, fa ridere la cosa. Comunque io ve lo consiglio veramente. Poi questo qua è un ragazzo comunque molto gentilissimo, tantissima pazienza, quindi io, appunto, di questo non vi posso dire perché non vi posso spoilerare il metodo, ovviamente perché appunto è copiabile e vorrei evitare proprio questo, proprio perché è lui che l'ha inventato questo metodo. Ovviamente sapeva che prima o poi l'avrebbero copiato, perché basta far finta di iscriversi. Ovvio però spero che comunque la gente abbia un po' di sale in zucca e si faccia i cazzi suoi magari. Allora, trovate sempre il link sotto, si chiama Aumento Pagina 2, l'ho trovata comunque sempre nelle mie storie, c'è sempre, anche salvato, c'avevo scritto follower, io ho fatto il post mille follower, lo taggo ormai ovunque, potete anche contattare me su Instagram per chiedermi. Se volete, comunque sotto vi lascio il link, così potete trovarlo e anche sempre nella pagina, sempre nel post in evidenza. E quindi sponsorizzo il ragazzo perché è una collaborazione, perché comunque lui mi ha portato almeno tanti follower. e comunque è una collaborazione che abbiamo fatto tra di noi che ovviamente ci sponsorizziamo un po' a vicenda, non è che mi sponsorizza a me, però mi aiuta moltissimo con i miei moltiplici account e io cerco di aiutare lui, non solo con la piattaforma di Instagram, ma anche comunque appunto YouTube, con WhatsApp, Telegram, perché comunque penso sia una modalità molto valida. In questo termino il video, che se lo trovate troppo lungo, sotto nella descrizione trovate il link, se non lo trovate lì ve lo lascerò nel post in evidenza. Se no, contattatemi su Instagram con Red Princess o Star SMR, vi darò lì il contatto di lui senza problemi, ma tanto lo trovate perché io lo taggo ovunque e semplicemente mi potete chiedere anche lì, ma chiedete ovviamente a lui perché è lui che gestisce la pagina, saprà dirvi a voi meglio di me come funziona il tutto. Vi saluto. Se volete una mia sponsorizzazione di questo tipo, mi dovete contattare su Instagram. Lì decideremo come fare una sponsorizzazione collaborativa, si chiama, ovvero io do te e tu dai a me, non che io do te e tu non cazzo a me, perché purtroppo è così che funzionano le collaborazioni e le sponsorizzazioni collaborative. Io vi saluto. E niente, veramente è una pagina che merita. Se siete arrivati alla fine del video potete hashtag io voglio aumentare di favore. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.